Amici come è stato abbiamo commentato un anno da diversi punti di vista che sta per volgere al termine, ora andrei su un giallo che si è creato ieri legato al futuro di Giroud perché dei colleghi hanno raccontato della volontà della moglie di lasciare Milano, non si trova bene, della sua volontà di andare in Premier League, di una distanza che è del doppio tra domanda e offerta e quindi un rinnovo che sarebbe naufragato, sinceramente sono qui per dire quello che risulta a me, dopo ulteriori verifiche fatte anche ieri è stato drammatizzato il tutto per quello che mi riguarda, ecco non voglio commentare colleghi perché non è mai bello, a noi risulta invece che il rinnovo sia più che ben avviato, che si stia definendo nella modulazione dei bonus personali e di squadra, cioè gol, raggiungimento di determinati obiettivi, piazzamento in Champions, scudetto, discorso Champions, seppur oggi sembra proibitivo ma è stato messo anche nel contratto di Pioli e con questo si definirà un rinnovo che per il Milan non è in discussione, poi magari la gente ha fatto circolare certe cose per ottenere qualche bonus in più, questo non lo sappiamo, ma da verifiche fatte anche ieri, ripeto, la situazione non è come quella descritta, anzi è un rinnovo più che imbastito, molto ben avviato, che poi con dei prossimi incontri arriverà alla fumata bianca. Invece quello che è emerso ieri dalla partita del Milan è che ci sono diversi problemi da risolvere, il primo quello dei portieri, una fase difensiva che non è più perfetta e una fase di costruzione che ieri è mancato un po', individualità che purtroppo non hanno sfruttato l'occasione come Mirante, come Dest sulla sinistra, come De Ketelare Adli che potevano e dovevano fare sicuramente molto meglio. Vi mando un abbraccio, magari ci vediamo più tardi, altrimenti buona chiusura di anno. Iscrivetevi qui se lo avete ancora fatto, lasciate un bel like qui sotto. Ciao a tutti e che sia un 2023 bello e felice per tutti, da un punto di vista personale innanzitutto. Ciao!